Buongiorno, siamo dell'azienda Vinicola Torre Zambra, un'azienda storica bruzzese fondata nel 1961. Siamo qui a Vinitaly per presentarvi il nostro prodotto di punta che è il Luciano Colle Maccio, prodotto affinato 16 mesi in barrique, che fa altri 6 mesi in bottiglia prima di arrivare sui vostri mercati. Qui siamo alla terza generazione dell'azienda, il mio padre è il signor Riccardo, io sono Federico e il fondatore era mio nonno Laurentino.